I like cooking, oppure I like to cook, qual è? Quindi qual è la differenza tra I like cooking, la forma ing, e I like to cook, to più l'infinito? Qual è la differenza? Io scommetto che a scuola voi avete imparato che dopo I like sempre verbo più in, sì? È così, ma non sempre. I like cooking, I like playing, I like reading, I like eating, ok? Però perché si vede qualche volta I like to, I like to cook, I like to play, I like to read, perché? Praticamente c'è una differenza, ma questa differenza è così sottile. Alla fine è una cosa che non dovete preoccupare molto, ok? Per esempio, si usa I like, più verbo più ing, per le cose in generale. Per esempio, I like cooking, in generale mi piace cucinare. Però se io voglio specificare qualcosa solo per me, per esempio, a me piace cucinare il weekend, in questo caso possiamo usare la forma con to, perché adesso non stiamo parlando più in generale. Quindi io potrei dire I like to cook, però potrei anche dire sempre I like cooking. Quindi I like cooking si può usare sempre, il verbo più ing, però qualche volta quando è più preciso per te, si può anche usare I like to cook. È chiaro? Un altro esempio. I like drinking beer. Mi piace bene la birra, in generale. Però se poi voglio essere un po' più preciso, specifico per me, io posso dire con to. I like to drink beer after dinner, dopo cena. Quindi adesso ho detto qualcosa in più, più preciso, più specifico per me. Hai visto? La differenza c'è, ma è proprio sottile. Alla fine, se si usa il verbo più ing dopo like, non puoi sbagliare, ok? In questa lezione io non posso darvi una regola fisso per quando dobbiamo usare il verbo più ing e quando dobbiamo usare il to più l'infinito. Sai perché? Perché non c'è una regola, ok? È così. Quindi io ho strutturato questa lezione per aiutarvi di capire quando sbagliano gli italiani. In questa maniera sarà molto più pratico per voi e poi risulta in meno errori quando volete parlare, ok? Let's start with the ing form. Iniziamo con l'ing, quando dobbiamo mettere. Io sento spesso... I finished to study last year. I finished to study last year. No. E questo è un errore che tanti italiani dicono. Praticamente è semplice. Dopo il verbo finished, dobbiamo mettere il verbo sempre più ing. Dobbiamo dire... I finished studying last year. E questo è. Dopo finish, verbo sempre con ing. Un altro errore che io sento sempre è questo qui. Adesso il contesto è che stai pensando di fare qualcosa, stai pensando di andare in Inghilterra per studiare l'inglese. Prima di tutto, la cosa più importante, per fare qualcosa. In questo caso, per studiare. In Inghilterra per studiare l'inglese è sempre to, non è mai for, non devi dire mai for to study, for to buy, for to play, ok? Quando per fare qualcosa, solo to e senza for. Quindi, prima di tutto, è to study English. E quando stiamo pensando di fare qualcosa, dopo think è sempre verbo più ing. Però, dobbiamo anche aggiungere of. I'm thinking of going to England to study English. Un altro esempio, sto pensando di andare in vacanza. Non si dice... I think to go to holiday. Di nuovo, stai pensando di fare qualcosa. Quindi, I'm thinking of... Presente progressivo, perché stai pensando in questo momento. I'm thinking of going on holiday. In vacanza si dice on holiday. La maggior parte delle volte dobbiamo mettere sempre to dopo go. Ma questo è solo se è un posto. I go to the bank. I go to school. Però, vacanza non è un posto. È una cosa. Quindi, I go on holiday. Adesso, però, abbiamo un contesto un po' diverso. Se noi vogliamo dire... Io penso che studiare l'inglese è molto importante. Adesso non è che stai pensando di fare qualcosa. È solo secondo te. Tu pensi qualcosa. In questo caso, dobbiamo dire... Quindi, di nuovo, sempre verbo più in dopo, ma non serve of. Un altro esempio. Io penso che mangiare la frutta è molto importante. Non thinking of perché non stai pensando di fare qualcosa. Se volete, si può anche aggiungere that. Non cambia niente. Se vuoi mettere, va bene. Se non lo vuoi mettere, anche va bene. Come ho detto, ovviamente ci sono altri verbi che dobbiamo usare sempre con ing, ma questi due sono quelli più spalliati. E siccome non c'è una regola, è inutile che io faccia un elenco grandissimo. Io metto un elenco sulla descrizione del video e poi puoi andare lì. C'è un link per vedere tutti i verbi. Ok, adesso vediamo un po' quando dobbiamo usare to più l'infinito. Gli italiani hanno meno difficoltà con questo, solo perché in italiano è sempre l'infinito. Non usate mai con il gerundio. Ci sono però due verbi che sono importantissimi e voi dovete sapere che vanno sempre to più l'infinito. La prima è volere, want. Io voglio andare. I want to go. Io voglio mangiare. I want to eat. Non è mai I want eating. I want going. Non è mai così. È lo stesso per need, aver bisogno. I need to study. Ho bisogno di studiare. Non è I need studying. I need to drink something. Ho bisogno di bere qualcosa. Sempre to più l'infinito. Adesso però l'inglese diventa molto strano perché qualche volta possiamo usare un verbo sia con to più l'infinito e ing e non cambia niente. Per esempio, iniziare. Start. Si può dire I started to play football last year. Ho iniziato di giocare a calcio l'anno scorso. Oppure I started playing football last year. Vedi, la prima volta abbiamo usato to più l'infinito e poi abbiamo usato il verbo con ing. È così. Non cambia niente. Quindi con start puoi scegliere. Con ing o to più l'infinito. Adesso abbiamo un paio di verbi che l'italiano spallino sempre. Abbiamo... La prima è suggest. Suggerire. E io sento sempre I suggest you to go to Rome. Prima di tutto si dice suggest. Non suggest. Suggest. Ok? Questa è la prima cosa più importante. Poi noi dobbiamo dire I suggest you go to Rome. Senza tu. Quindi con suggest se noi vogliamo dire a chi in questo caso you non dobbiamo mettere tu dopo è sempre all'infinito. Però spesso con il verbo suggest suggerire noi non diciamo a chi stiamo dicendo perché non c'è bisogno. Spesso è ovvio con il contesto. E in questo caso non si può usare più l'infinito. Dobbiamo usare il verbo più in. Per esempio I suggest going to Rome. Vedi? I suggest going to Rome. Verbo più in senza chi. Un altro verbo molto simile è advise consigliare. però però uno degli errori più grandi è la differenza tra advise verbo advice consiglio sostantivo perché se noi vogliamo usare il sostantivo advice noi dobbiamo usare sempre to più l'infinito. My advice is to go to England. ricordatevi advice è sempre singolare anche per i miei consigli plurali in italiano sempre my advice singolare in inglese. Advices non esiste. Però se noi vogliamo usare il verbo consigliare advise poi possiamo usare o con to più l'infinito o più il verbo più in. Però dobbiamo cambiare la struttura un po'. Se noi vogliamo dire a chi stiamo dicendo questo consiglio si dice I advise you to go quindi di nuovo abbiamo specificato chi quindi dobbiamo mettere to più l'infinito. Però se noi non vogliamo specificare a chi e spesso non c'è bisogno perché di nuovo è ovvio con il contesto si dice I advise going quindi non abbiamo specificato a chi e abbiamo usato il verbo più in quindi con suggest oppure advise possiamo usare o con to più l'infinito oppure con in però dobbiamo cambiare la struttura della frase un po'. Ma poi abbiamo i verbi che possiamo usare o con to l'infinito oppure con in però cambia il significato completamente. Per esempio stop vediamo un paio di esempi I stopped buying lemons oppure I stopped to buy lemons Qual è la differenza? La prima con il verbo più in significa che ho smesso completamente non compro più limone perché ho un albero in giardino quindi ho smesso di comprare limone però la seconda I stopped to buy lemons mi sono fermato per comprare limoni quindi hanno due significati completamente diverse quindi con in hai smesso di fare qualcosa invece con to più l'infinito ti sei fermato per fare qualcosa un'altra due verbi che cambiano significato se si usa to più l'infinito o verbo più in sono forget dimenticare oppure remember ricordare di nuovo vediamo un esempio quindi ti ricordi vedere le leoni in vacanza poi la risposta non mi dimenticherò mai di vederli quindi in questo caso abbiamo messo il verbo più in seeing dopo forget e anche remember perché stiamo parlando di un ricordo al passato e questo è il contesto quando noi usiamo verbo più in però poi cambia il significato completamente quando lo usiamo con to più l'infinito per esempio quindi in questo contesto ti sei ricordato di accendere di accendere stellia e la risposta no ho dimenticato di farlo quindi in questo contesto usando to più l'infinito non stiamo più parlando di un ricordo al passato e di fare qualcosa quindi il significato è completamente diverso un altro esempio ho dimenticato di spegnere il gas quindi to più l'infinito perché ho dimenticato di fare qualcosa ok quindi spero che questo video ti ha aiutato un po' di fare meno errori con i verbi più usati principali ok quindi come detto c'è il link nella descrizione quindi per piacere vai a vederlo and I will see you next time please subscribe thank you very much goodbye